La notizia della scomparsa di Dino Barracco, il decano dei giornalisti marsalesi, stamattina è stata accolta con grande tristezza negli ambienti comunali. Sono tanti i dipendenti, principalmente quelli del Palazzo Municipale di Via Garibaldi, che lo ricordano nella sua quotidiana venuta al Comune per tenersi aggiornati sulle vicende della vita amministrativa. Per oltre 50 anni ha contribuito, specialmente nel periodo in cui non vi erano né i social né i quotidiani locali, a diffondere le notizie sull'attività amministrativa. Con lui scompare un pezzo di storia della nostra città, sottolineano Massimo Grillo, sindaco di Marsale e Enzo Sturiano, presidente del Consiglio Comunale. Sempre attento, non usciva mai fuori dalle righe, con lui abbiamo sempre avuto rapporto e un dialogo finalizzato al bene della città. È stato nel suo campo un grande esempio di correttezza e professionalità. Ci mancherà in questo momento di grande dolore, siamo vicini alla moglie Maria Pia e ai figli Anne Enzo, nonché a tutti i suoi familiari. Dino Barraco è stato per anni anche direttore di Canale 2 e lo ricordiamo sempre col sorriso sulle labbra qui in redazione, nella preparazione dei vari TG e delle varie interviste. Una persona davvero straordinaria che ricordiamo con grande affetto. Anche la redazione di Canale 2, gli editori e tutto il personale dipendente si stringe attorno alla famiglia di Dino Barraco, i cui funerali si svolgeranno domani mattina a 2 giugno in Chiesa Madre alle 11.30.